E' arrivato un deambulatore a mano del Bortusso, il famoso nuotatore italiano. E pensate che proprio questo deambulatore è uno strumento che in qualche modo, in qualche maniera, va a semplificare le cose per chi ha problemi nel camminare. E pensate che con volato in confessionale, il giovane nuotatore ha trovato questo meraviglioso regalo, accompagnato da Don Montana Exbelli, la presa è stata scoperta e potrà andare a cambiare il suo modo di relazionarsi e di muoversi all'interno della casa. Infatti si è visto alzarsi in piedi, camminare, è stato un momento emozionante, ha commosso tutti i presenti della casa del grande fratello. Anche commossi sono rimasti fan delle reality che hanno letteralmente in un dato di commenti e quindi quelle immagini che sono diventate veramente molto molto profonde. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, il bio termine acqua. Iscrivetevi al canale narratore italiano, commentate. Ciao a tutti e al prossimo video.